Buongiorno, Giorgio Falanelli, CNA di Modena. Mi occupo per la CNA del mestiere dell'impiantista, quindi un mestiere che sta all'interno di questo premio, di questa settimana e di questa filiera. Devo dire che sono sempre molto contento di essere presente a questa settimana. Il gruppo di lavoro, il comitato, è un gruppo veramente rappresentativo di tutte le realtà socio-economiche della nostra provincia. Devo dire che sono molto contento anche perché pare che stia prendendo sempre più piedi questo premio, che è bello anche perché alla fine premia le realizzazioni più di qualità, che è un po' convintamente quello che deve essere il nostro driver di sviluppo, cioè la qualità e l'integrazione. Quindi venendo all'argomento di stamattina, al convegno di stamattina, parleremo, affronteremo un'innovazione importante di processo che è il BIM, cioè la progettazione avanzata e tridimensionale, building, information, modeling, perdonate l'inglese, perfetto, ed è uno strumento per progettare e integrare le varie parti. Ovviamente quello che a me interessa e ha colpito di questa modalità è proprio il fatto che costringa l'integrazione tra le varie parti e che permette anche di controllare tempi e costi. Questo ovviamente è un altro aspetto fondamentale. Io personalmente sono convinto che il vero driver sia, ribadisco, la qualità e devo dire anche l'economicità. Io penso che con l'integrazione si possano coniugare queste due cose, quindi diciamo restare competitivi nella qualità. È chiaro che tutto passa attraverso due variabili, che sono appunto l'integrazione, ma anche la qualità intesa come qualificazione, formazione e aggiornamento di tutte le maestranze. Ovviamente questo permette anche di ragionare tra i vari attori, quindi mi viene da dirla così, di parlare la stessa lingua, che non è scontato e banale. Quindi dal professionista al serramentista, passando per l'edile, l'impiantista, eccetera, è chiaro che il gioco di squadra è fondamentale per ottenere risultati che ovviamente dobbiamo raggiungere sia come parte economica, ma anche, devo dire, come sistema paese. Quindi l'integrazione porta anche a raggiungere dei risultati di efficienza energetica, quindi anche di risparmio nel consumo di energia, che poi fanno quella che tutti auspichiamo, la rivoluzione energetica per questo paese.